Ben ritrovati a tutti, benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale che inauguriamo parlando della delicata situazione dei nostri Marò in India. Il governo italiano ha avviato un contatto con l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, per violazione dei diritti umani per quanto riguarda proprio la mancanza di un capo di imputazione per i Marò da parte dell'India dopo due anni, accompagnata da una restrizione della libertà. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Emma Bonino. È indispensabile crescere le tensioni internazionali che abbiamo costruito con grande lavoro e che non erano scontate, ha sottolineato la Bonino, dinanzi alle commissioni esteri difesa della Camera e del Senato. La presa di posizione di due settimane fa del Presidente dell'Unione Europea Barroso e di quella dell'Ashton sono strumenti importanti da usare, dice la Bonino. L'Alto Commissario Ashton ha chiarito agli altri Stati membri che l'utilizzo della legge antipirateria nei confronti dei Marò da parte dell'India mette in discussione l'intero impianto dello sforzo antipirateria da parte dei 28 Paesi dell'Unione Europea e non solo di loro. Dai 28 abbiamo avuto reazioni positive ai nostri sforzi, ha aggiunto la Bonino e questo mette in discussione la partecipazione dell'intero sforzo antipirateria sulla base delle decisioni delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. L'accusa indiana legata alla legge antiterrorismo contro i due Marò italiani significa che l'Italia sarebbe vista come un Paese terrorista e questo è assolutamente inaccettabile, ha detto Catherine Ashton rispondendo ad una domanda durante l'audizione al Parlamento Europeo, ieri ha aggiunto che la posizione dell'Unione Europea è stata comunicata al governo italiano, dunque non siamo soli per fortuna in questa guerra, in questa battaglia, chiamiamola così tra virgolette contro l'India per la sorte dei nostri due Marò. Veniamo ora a parlare di cronaca spicciola, di cronaca locale, un giovane è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e è accaduto a Doria dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana ha tratto in arresto il 29enne Marco Suma, nato tra l'altro a Torino, già conosciuto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia. L'arresto disposto dal GIP presso il Tribunale di Brindisi con una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha concordato con le investigazioni dei militari dell'arma dei carabinieri, avviate a seguito di una denuncia trasporta da una donna stanca di subire già dal 2004 maltrattamenti in famiglia per l'appunto. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Brindisi. Una notizia di cronaca ma una notizia curiosa che riguarda quanto accaduto l'altro giorno all'ospedale Perrino di Brindisi dove una donna che aveva accusato un malore nei pressi della camera mortuaria era lì per un lutto di famiglia, è stata soccorsa da un'ambulanza che paradossalmente è arrivata da un altro comune della provincia dopo che era stato chiesto l'intervento diretto al 118 e nonostante un'ambulanza fosse lì a poche decine di metri dinanzi al pronto soccorso del Perrino. L'episodio si è verificato l'altra mattina ed è il frutto del rispetto meticoloso di procedure che anche secondo il direttore sanitario della ASL Graziella Di Bella che ha chiesto informazione ai responsabili della gestione del servizio emergenza urgenza avrebbe potuto subire una deroga in presenza di una persona in difficoltà. I fatti sono stati ricostruiti direttamente dalla marcapitata che per fortuna sta bene ora e in quei momenti si è trovata all'interno del perimetro dell'ospedale per un lutto di famiglia come dicevamo è stato chiamato il 118 e l'ambulanza è partita direttamente da mesagne come il protocollo vuole, protocollo che comunque chiaramente non prevede eventualmente casi di questo tipo. Cambiamo argomento e veniamo a parlare di tratte di voli diretti tra i nostri aeroporti e scali fondamentali di altre realtà. Collegamenti con Firenze, una nuova destinazione per l'aeroporto e Roma-Fiumicino si aggiungono a quello con Barcellona per un incremento dell'offerta di posti di 648% rispetto al 2013. In una conferenza stampa infatti tenutasi questa mattina all'aeroporto di Bari sono state annunciate le novità per la prossima stagione estiva 2014, due nuove tratte verso Firenze e Roma-Fiumicino e la compagnia Vueling incrementa del 648% e questa la cifra, l'offerta di posti disponibili da Bari rispetto al 2013 con un totale di 161.520 posti offerti e tre destinazioni, Firenze e Roma che si aggiungono a Barcellona già operativo dal marzo 2013. Bari-Firenze sarà il primo nuovo collegamento a decollare, assente da oltre dieci anni, la tratta sarà operativa dal prossimo 11 aprile 2014 con un volo giornaliero ed un'offerta di 51.000 posti sino a ottobre 2014. La rotta Bari-Roma-Fiumicino sarà attiva tutti i giorni con due voli giornalieri a partire dal 25 giugno e un'offerta totale di 84.204 posti sino all'ottobre 2014. Ma ascoltiamo le dichiarazioni registrate proprio questa mattina nel corso della conferenza stampa all'aeroporto Carol Wojtyla di Bari. Credo che la nostra responsabilità sia quella di lavorare in maniera ordinaria e robustendo le rotte e questo credo che sia un risultato di quest'azione ma altri sì. Abbiamo sempre la consapevolezza e quindi la responsabilità di condurre le azioni in uno scenario molto complicato. È stato un anno il 2013 per il traffico e è anche vero che oggi abbiamo i primi segnali positivi sia su Brindisi che su Bari già a dicembre ma anche a gennaio. Il traffico ritorna a prendere dopo circa 16 mesi di calo continuo e direi quindi che in questa difficoltà che è generata anche da un quadro nazionale in cui l'Italia combatte quotidianamente per il suo futuro noi abbiamo la responsabilità di pensare e anticipare problemi che non auspichiamo ma dobbiamo garantire la mobilità per i cittadini pugliesi. Questa volta il collegamento diretto con la Spagna con una meta molto interessante che fa peraltro da hub con altre destinazioni cambia un po' la definizione delle relazioni con la Spagna. Ma aggiungerei che anche Firenze è un collegamento di grande interesse per il centro-nord quanto a Roma è un interesse grande per i pugliesi avere una migliore possibilità di scelta anche in riferimento ai costi della mobilità con la capitale. Quindi un'operazione molto interessante questa con gli spagnoli. Avete ascoltato poco fa l'amministratore unico di aeroporti di Puglia il dottor Giuseppe a Cerno che nei giorni scorsi ha tenuto un incontro con Roberto Fusco consigliere comunale Brindisi di Sidemocrazia e con Riccardo Rossi consigliere per Brindisi Bene Comune e tra l'altro il Bene Comune di cui si parlava era proprio il futuro dell'aeroporto di Brindisi, l'aeroporto del Grande Salento come vedete l'aeroporto Papola Casale. E nostra profonda convinzione dicono sia Fusco che Rossi che le prospettive aeroportuali siano strettamente legate alla capacità di renderlo maggiormente competitivo e attrattivo, dotandolo di maggiori parcheggi e collegandolo con il bacino di utenza in maniera efficace ed efficiente. Soltanto in questo modo non si perdono quote di mercato, anzi si creano tutti i presupposti per aumentare ma non si possono commettere passi falsi. L'incontro appunto con l'amministratore Giuseppe a Cerno è stato quanto mai utile dicono sia Fusco che Rossi proprio per comprendere il futuro dell'aeroporto. Siamo dell'avviso, continua la nota stampa, che l'attuale progetto di collegamento con l'aeroporto così come formulato non corrisponde a quei requisiti di efficacia auspicati, pertanto si chiede una sua rivisitazione. Perché ciò sia possibile occorre innanzitutto che la Regione Puglia faccia richiesta di un differimento della data di scadenza dei fondi FAS che prevede per fine giugno l'appalto dei lavori. Si invitano le forze politiche, i rappresentanti alla Regione ad attivarsi in tal senso dell'interesse proprio dell'aeroporto e di tutto il territorio. Non facciamo la differenziata perché non ci siano impianti per il compost, non facciamo la differenziata perché il ciclo non è chiuso, non dovete applicare l'ecotassa perché altrimenti scaricate sul cittadino le inadempienze della Regione. Per amore di sintesi racchiude in queste frasi i temi che da anni le periferie riversano sull'amministrazione regionale sul tema della differenziata. Lo dice l'assessore regionale all'ambiente, Nicastro, parlando dell'attuale sistema e della forma di controllo dei cittadini sulle politiche per i rifiuti. L'assessore alla qualità dell'ambiente ha fornito un contributo al dibattito sulla raccolta differenziata appunto con le parole che dicevamo poc'anzi ed è intervenuto proprio per cercare di far capire quanto sia arduo intervenire su questo delicato settore. Ho più volte detto, dice Nicastro, che la rimodulazione funzionerà da sistema di controllo sociale sull'operato degli amministratori. Il cittadino sulla base di quello che paga ed è servizi ricevuti in cambio avrà la possibilità di valutare l'attenzione del proprio sindaco al tema dei rifiuti. Molti sindaci, conclude Nicastro, hanno accettato la sfida sapendo di poter fare bene e scegliere e di provare a migliorare la qualità della vita della propria città. Altri, spiace dirlo, sprecano tempo invece di costituirsi in aro e bandire gare concepite sulla differenziazione spinta e sperano in rinvii invece di lavorare e mettere in cantiere gli impianti stessi e utilizzare i fondi. Ritorniamo a Bari dove questa mattina presso Villa Romanazzi Carducci c'è stato un incontro, un cosiddetto road show, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. vediamo com'è andata e ascoltiamo soprattutto le interviste. È un'importante opportunità perché si discute delle strategie di internazionalizzazione che mettiamo in campo varie istituzioni. Da un lato lice con il piano export sud, dall'altro la regione. E la regione sta investendo molto nell'export delle imprese, sia dal punto di vista delle imprese, sostenendole per diventare più competitive e strutturando meglio, sia per andare all'estero, con una strategia che incide sia sulla ricerca e sull'innovazione per fare realizzare loro prodotti e processi più innovativi e anche con una strategia che incide sull'accompagnamento nei mercati esteri. Partecipare ad un'attività di internazionalizzazione non vuol dire soltanto partecipare alle fiere, vuol dire organizzare eventi B2B, vuol dire avere la possibilità di trattare con investitori stranieri, anche con operatori che sono attratti dal made in Puglia, in tutti i settori che sono particolarmente intriganti per l'estero, dall'agroalimentare di qualità, alla meccatronica, all'aerospazio, alle attività che ineriscono soprattutto il discorso della meccanica. Su tutto questo la Puglia non è solo presente, ma incide sui materiali innovativi anche sostenendo i centri di ricerca che sono qui presenti. Per una volta e per la prima volta tutto il governo, tutti gli enti che si occupano di internazionalizzazione vanno dalle imprese, vanno dalle imprese sul territorio. Questo è successo a Biella due settimane fa e succede oggi a Bari, risuccederà in ventità appena in Italia. La cosa molto importante è che questo non è un convegno. Dopo due ore di spiegazione sui servizi e le strutture che possono aiutarle, le imprese potranno avere incontri individuali con esperti di internazionalizzazione che poi li seguiranno attraverso tutto il processo, anche successivamente. È il modo in cui il sistema paese cerca di aiutarle portandole, andandole a prendere dove sono e per portarle fuori dall'Italia. Io penso che non ci sia un modello che noi dobbiamo definire. Io penso che le imprese italiane sanno cosa fare e come farlo sul territorio, i distretti, le filiere. Quello che è importante, almeno importante oggi, è fargli capire come trasformare questa forza in una forza di proiezione internazionale. E ora parliamo della cultura della donazione, donazione di sangue, di organi, di tessuti, di cellule. Una vera e propria filosofia che va aiutata, va promossa ulteriormente, va spinta in qualche modo affinché decolli definitivamente. Proprio per questo motivo la Croce Rossa italiana insieme all'Aido hanno organizzato un seminario itinerante che ieri ha fatto tappa alla biblioteca comunale di Ostuni con un titolo e un tema emblematico, un dono per la vita. Fra l'altro nella mattinata di ieri è stato sottoscritto in comune un protocollo d'intesa tra il comune e l'Aido proprio per promuovere la cultura della donazione nell'ambito del progetto denominato una scelta in comune. Vi proponiamo le interviste realizzate ieri. In questo seminario itinerante, nelle tappe che avete già effettuato, che tipo di sensibilità state riscontrando? Devo dire che i volontari sono estremamente disponibili, attenti, sensibili e incarrono pienamente il principio di umanità che è il primo dei sette principi della CRI. A suo parere, anche noi dei media, che tipo di contributo possiamo dare? Cosa altro c'è da fare per far sì che si radichi definitivamente la cultura della donazione? Bisognerebbe far passare l'idea che la cultura della donazione è trascendere davvero i confini e fare il sì che l'altro da sé diventi davvero parte di me stesso, che il cuore dell'altro è il nostro stesso cuore. Che tipo di sensibilità c'è soprattutto da parte delle giovani generazioni alla cultura della donazione? Dal punto di vista della donazione, la cultura della donazione negli ambiti giovanili in effetti non ci sono dati confortanti. Questi incontri, così come gli incontri nelle scuole, servono appunto ad aumentare la sensibilità dei giovani. Chi vi parla è donatore di sangue dall'età di 20 anni. Quindi nelle scuole funziona la promozione della donazione. Quindi ci auguriamo che questo percorso intrapreso dalla Croce Rossa italiana a livello nazionale e regionale porti buoni risultati anche a Ostuni. L'Aido ha questa funzione. La funzione dell'Aido non è chiedere organi, ma diffondere una cultura che purtroppo manca. La Puglia è sempre il fanalino di coda per questo tipo di generosità, ma non perché non siamo generosi, perché non conosciamo tutta la logica che sta dietro, il miracolo della donazione, il miracolo dei trapianti. Che con questi incontri noi cerchiamo di far comprendere, sperando di ridurre questo gap che ci differenzia delle altre regioni del nord. Non è accettabile che nel momento in cui è avvenuto questi giorni, in una rianimazione per un decesso cerebrale, si chieda ai parenti di donare gli organi e un fratello di Bari dice di no, un fratello di Milano dice di sì. È qualcosa che ci lascia sorpreso, perché poi la conclusione è che purtroppo ha l'avvinta il fratello di Bari. Ultimamente nel mese di gennaio abbiamo su sette morti cerebrali in Puglia, sette negazioni al prelievo degli organi, 100%, questo non è possibile. Con la morte cerebrale l'organismo non ha più nessuna necessità appunto di questi organi, perché giustamente viene spenta la macchina, il respiratore e gli organi poi vengono in potrefazione e quindi non vengono utilizzati. In questa maniera si dà la possibilità utilizzando gli organi di una persona ad altre persone appunto di poter fare una vita, di poter vivere e di poter fare una vita appunto buona. È un percorso che uno deve maturare pian piano attraverso una cognizione scientifica e il nostro compito è quello, di dare questa cognizione scientifica e culturale dell'importanza della donazione degli organi, che deve essere vista non come qualcosa che uno deve donare, che è uno che può ricevere principalmente. Quella parola donazione che a volte ci può creare una difficoltà nella trasmissione è diverso dal discorso di ricevente che diventa poi fondamentale per proseguire la nostra vita di relazione. La mia giunta comunale ha approvato un protocollo di intesa che ci era stato proposto dall'Aido e quindi un progetto da fare insieme proprio per porre rimedio e per cercare di agevolare l'attuazione della normativa che è in vigore. Per cui noi metteremo a disposizione due dipendenti comunali per tutti coloro i quali si rivolgono al comune per qualunque e qualsiasi tipo di certificato anagrafico forniranno tutte le informazioni necessarie ed indispensabili e li indirizzeranno verso una sorta di desk che curerà l'Aido in modo tale da creare le condizioni ideali perché ci possa essere questa crescita e quindi mi auguro che Ostuni anche in questo settore dia un segno di civiltà e costituisca e diventi un punto di riferimento per l'attuazione della normativa. Tra l'altro il protocollo di cui parlava il sindaco Tanzarella è quello inserito nell'ambito del progetto di respiro nazionale intitolato denominato con un titolo davvero efficace una scelta in comune. Tra l'altro anche il comune di Brindisi ha approvato il protocollo stesso proprio sottoscritto lo scorso 14 gennaio. Più comuni aderiscono a questa iniziativa evidentemente più la cultura della donazione prende strada, si radica nella società civile. Ci fermiamo qui, diamo la linea ai colleghi di ADN Cronos che ci parlano di quanto accaduto in Italia e all'estero nelle top news. Grazie ancora per l'attenzione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Renziletta faccia a faccia sul destino del governo. Toyota richiama per 1,9 milioni di Prius. Tragedia in Brianza. Un uomo uccide i suoi due figli e tenta il suicidio. Incontro oggi a Palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Letta e il segretario del PD Renzi sui loro destini e quelli del governo. Questa mattina il ministro degli affari regionali del Rio ha detto che Renzi rappresenta una speranza per il centro-sinistra. Domani si terrà la decisiva direzione del PD anticipata rispetto alla convocazione del 20 febbraio. Nuovi guai per Toyota che annuncia il richiamo nel mondo di 1,9 milioni di Prius, inclusi 997 mila veicoli in Giappone per un problema al software di gestione del sistema ibrido. In Italia sono 5.800 le vetture che dovranno tornare in officina. Nel dicembre del 2012 Toyota ha dovuto pagare un maxi risarcimento per una class action negli Stati Uniti scattata in seguito a un altro richiamo. Dramma famigliare in Brianza dove un uomo ha sgozzato i suoi due figli piccoli e ha tentato il suicidio a compiere il folle gesto un 37enne Michele Graziano ricoverato in ospedale è accaduto a Paina, frazione di Giussano. L'uomo viveva con i due bambini di 8 e 2 anni avuti da donne diverse. Graziano era descritto come in forte depressione. Clamorosa evasione nella capitale. Due detenuti sono riusciti a fuggire dalla carcere romano di Rebibbia segando le sbarre e calandosi con delle lenzuola. Una vasta battuta che coinvolge tutte le forze dell'ordine scattata intorno all'istituto di Pena e nella periferia di Roma. Ma degli evasi entrambi italiani non c'è traccia. Amanda Knox su Twitter ribadisce la sua innocenza e indirettamente anche quella di Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher. Immediati sono arrivati i commenti, gli utenti si dividono tra innocentisti e colpevolisti. La ragazza americana è stata condannata a 28 anni e 6 mesi di detenzione. Iniziati i primi colloqui ad alto livello fra Seoul e Pyongyang non accadeva dal 2007. L'incontro si svolge nella zona smilitarizzata di confine a Panmunjong. L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap parla di incontro cruciale che chiarirà il tono dei futuri rapporti bilaterali. La Fiorentina dopo 13 anni riconquista la finale della Coppa Italia battendo al Franchi Ludinese con il punteggio di 2-0. I viola allenati da Vincenzo Montella in finale affronteranno il Napoli o la Roma che questa sera a San Paolo si affronteranno nella semifinale di ritorno. Organizzare una serata, trovare un pensiero adatto ed evitare di spendere una tombola. Per molti italiani San Valentino può essere una fonte di stress. Così la pensano 5 intervistati su 10. Lo attesta un questionario online dell'Eurodap, associazione europea di disturbi da attacchi di panico. San Valentino può essere romantico, sexy, pieno di fiori, cioccolata, cena a lume di candela, dolcezze, ma può anche generare malumori perché spesso si hanno aspettative troppo alte. Così 5 persone su 10 affermano che la festa di San Valentino genera stress. Il giorno degli innamorati preoccupa più le coppie mature perché dopo tanti anni di vita insieme è più difficile creare una situazione romantica, mentre le coppie giovani si preoccupano molto del regalo da fare. Infine due uomini su tre desidererebbero festeggiare San Valentino facendo sesso con la partner.